Qua secondo me è proprio la conferma che è iniziata la famosa new era Con un anno di ritardo però è iniziata Il grande giorno è finalmente arrivato signori Antonio Conte ha parlato Ha fatto una bella conferenza stampa che è durata pure parecchio Un'oretta e mezza Siamo qui riuniti oggi ragazzi per farvi un po' una mia analisi Della conferenza stampa di Conte Posso già dirvi che ne sono uscito molto soddisfatto ieri pomeriggio Me la sono seguita in diretta dal primo fino all'ultimo secondo Ho preferito fare il video il giorno dopo perché se l'avessi caricato ieri Sarebbe uscito un orario improponibile e nessuno se lo sarebbe visto Comunque andiamo a commentare quello che si è detto ieri Ovviamente non mi mettono qui a dire tutte le domande A commentarle tutte perché ne sono veramente tante Ho preso mi sono segnato quelle un po' più diciamo importanti Come potete ben vedere La mia bellissima scrittura Quindi cominciamo subito I convenevoli le introduzioni le possiamo anche saltare Dico giusto una cosa su Conte che praticamente esordisce Dicendo che è la prima volta che ricevo una presentazione del genere Di solito io prima di ricevere do tutto Qui è successo il contrario e non mi resta che dare in cambio E va benissimo Allora la prima domanda che viene fatta a Conte è riguardo la promessa Cioè cosa promette i tifosi Prometto che darò tutto per il Napoli L'allenatore deve rendere orgogliosi i calciatori e i tifosi Nel calcio c'è la vittoria come la sconfitta Non ci devono essere però a temo anti della sconfitta La maglia va sudata E direi che qua non devo aggiungere niente Diciamo che quest'ultima frase specialmente lo scorso anno non si è visto tantissimo Ma no la maglia sudata nonostante la sconfitta Che faccia avrà il mio Napoli? Bella qua la risposta Avrà una faccia incazzata Veniamo da un'annata in cui tante cose non sono andate bene Dovremmo avere voglia di rivalsa sotto tutti i punti di vista Secondo me questo senso di rivalsa dovrebbe esserci a prescindere dall'allenatore e dalla nuova nata C'è un giocatore che l'anno scorso aveva lo scudetto sul petto e ha fatto una stagione schifosa Secondo me a prescindere dovrebbe avere questo senso di rivalsa e dire a tutti Guardate che io non sono quello dello scorso anno ma sono quello di due anni fa E ve lo dimostrerò quest'anno Sarebbe bello che ci fosse questo senso di rivalsa a prescindere da tutto Domanda sul progetto Perché ha scelto Napoli e Conte per il progetto? Attenzione qua Ho firmato un triennale Il progetto è quello di cercare nel breve tempo possibile Di far diventare Napoli un'alternativa credibile alle solite note Tradotto Secondo me ha detto L'obiettivo è tornare a vincere lo scudetto il prima possibile Io così la leggo Le solite note chi sono? Juve, Inter e Milan Due anni fa si è vinto lo scudetto L'anno scorso stagione non positiva Ora si dovrà ricostruire E servirà un po' di tempo e di pazienza Ecco questa frase Su questa frase mi voglio un attimo soffermare perché è fondamentale ragazzi L'arrivo di Conte sicuramente dà entusiasmo Sicuramente dà belle speranze nel futuro Però questo non ci deve secondo me far fare dei voli Chi sa quanto pindarci Cioè Conte è arrivato a Napoli E ne siamo tutti contenti Ma adesso non è che arriva bacchetta magica e vinciamo il campionato adesso No Ci vuole tempo Ci vuole pazienza Come ha detto il mister Siamo in una stagione dove si deve ricostruire Dove si devono rifare le fondamenta da capo Quindi quest'anno è logico pensare che non lotteremo per lo scudetto Quanto meno ci proveremo Ma l'obiettivo diciamo che non è quello Secondo me quest'anno l'obiettivo principale sarà tornare tra le prime quattro Poi come ha detto anche il mister è un triennale Quindi evidentemente l'obiettivo di Conte e di De Laurentiis sarà tornare a vincere entro questi prossimi tre anni Deve essere uno step by step Prima tornare in Champions Competere per il titolo e poi vincere Poi domanda sul fatto che se ci sono stati altri club che lo hanno conteso O il Napoli è stata la prima scelta unica Ci dice Conte che dall'estero c'è stata qualche proposta interessante Però dice Conte c'era un discorso con ADL in cui c'era una promessa che ci saremmo rivisti a bocce ferme Quindi qui è praticamente questo vuol dire quel famoso incontro che ci fu a novembre Quando fu esonerato Garzia Che tutti quanti dicevano Antonio Conte a Roma Antonio Conte a Roma per parlare con De Laurentiis Lì si erano visti per dire ci vediamo a giugno Il fatto che poi si è andati su Mazzardi e Calzona è tutto giustificato Cioè se tu sai che a giugno devi prendere Conte Allora tu non ti prendi un impegno con un allenatore come ad esempio Tudor Ecco quindi qui ci hanno dato la spiegazione sul perché ADL ha virato su Mazzardi e poi Calzona Piccola parentesi su Calzona Ieri la Slovacchia ha raggiunto gli ottavidi degli europei Sono arrivati primi nel girone No scusate sono arrivati terzi nel girone perché è arrivata prima la Romania Incredibile Questo per dire cosa ragazzi che Calzona non è un brocco Che non è uno scarso che non è uno che non sa fare l'allenatore E' uno che è semplicemente arrivato in una realtà dove non funzionava niente E dove lo stesso robot che aveva detto che pure Guardiola sarebbe apparso agli occhi di tutti un mediocre Ecco quindi questa piccola parentesi per dire che comunque Calzona E' un allenatore che in un contesto che conosce bene e che allena da tempo sa il fatto suo Abbiamo trovato la giusta quadra su ambizione e determinazione E secondo me anche la giusta quadra sul ognuno deve stare al suo posto Quindi se tu prendi Conte vuol dire che gli lasci carta bianca e cosa fondamentale Non vai negli spogliatori durante le partite negli intervalli a dire ma che cazzo stai facendo Poi domandina su Ibra, sulle parole che ha detto Ibra riguardo a Conte Quando ci fu la conferenza del Milan qualche giorno fa E qua Conte dice una cosa importante Io mi considero un manager gestionale ed allenamento Magari da qualche altra parte questo ruolo poteva dare fastidio E diciamo che qui Conte mi ha dato personalmente conferma di un pensiero che io avevo Vi ricordate quando si parlava di Conte al Milan? Io dissi Conte al Milan non ci va perché il Milan non cerca un allenatore manager Cerca un allenatore aziendalista che sta lì, che non parla e che lavora con quello che gli viene dato Quindi qui diciamo che Conte ha dato conferma di quello che pensavo Quanto tempo servirà per vedere i primi risultati? E qui c'è una bellissima domanda di Conte Dobbiamo essere realisti Questa è una squadra finita decima a 40 punti dalla prima E fuori dall'Europa dopo 14 anni Molto bene Questa cosa va sottolineata perché è importante Non possiamo competere con le solite note per monte, ingaggio e investimenti Ma possiamo creare basi solide con lavoro, voglia e sacrificio Sulla cultura del lavoro, sulla voglia di vincere e sull'ammazzare sportivamente l'avversario Nessuno ci deve battere Ecco quindi qui praticamente combattiamo le squadre che magari economicamente sono più ricche Tramite le idee e il lavoro Quello che praticamente si è fatto finora Perché comunque il Napoli storicamente non ha mai avuto fondi Non è stato mai economicamente più potente di Juve, Inter e Milan È stato competitivo negli anni grazie alle idee Adesso domanda importante sul di Lorenzo e Cavara Perché è inevitabile che si parlasse di loro due Sto gestendo le due situazioni col club Attenzione qui Io col presidente sono stato molto chiaro Prima di aspetti economici ho avuto una rassicurazione Avrei deciso io chi sarebbe rimasto o no E questa ragazzi è una risposta importantissima Una risposta che secondo me crea proprio la discontinuità rispetto al passato Cioè è Conte che decide e non De Laurentiis È importantissimo E rientriamo nelle cose che Conte ha voluto come garanzia per venire a Napoli Quindi praticamente ragazzi Conte a Napoli viene a fare il manager Lavora ovviamente insieme a tutti Però la decisione finale la prende lui Se parliamo di riscatto e pensiamo di andar via Allora è un controsenso Ho parlato con tutti Gli ho detto le mie idee Ho sentito quello che avevano da dirmi Però alla fine se ci sono problemi li risolvono Mi piace che Conte è stato molto deciso, tranciante e categorico Chi farà parte del progetto sarà al 100% parte del mio Napoli Questa frase la leggo come Chi resta avrà spazio Ecco tutti avranno spazio Qua proprio Conte mi ha fatto godere Si dice che a Napoli c'è confusione Non è vero, è tutto molto chiaro e sappiamo cosa fare Bello qui Conte che dà una risposta a specialmente i media Che dall'esterno fanno apparire il Napoli come un club confusionario Come un club dove va tutto a caso E invece Conte no Lui che c'è dall'interno Noi abbiamo le idee chiare e sappiamo cosa fare Bravo Conte, bravo Riguardo di Lorenzo Giocatore top, è bravo, è persona per bene Ed importante nello spogliatoio Idem per Kvara Forse lo scorso anno La frustrazione ha portato a situazioni che non erano proprio limpide I giocatori sanno che ci sono le difficoltà Siamo tutti uomini Bisogna rimborcarsi le maniche Quest'anno deve essere la stagione della rivalza Bella risposta qui Quindi praticamente Conte ha fatto capire Che ha risposto pubblicamente E ha detto di Lorenzo È un giocatore su cui io ci punto tantissimo E lo stesso ha fatto dell'Aurendis Perché cosa è successo poi? La cosa bella della conferenza stampa Sapete qual è? È che in un'ora e mezza ADL è intervenuto una volta Ed è intervenuto dopo che Conte gli ha detto Che poteva intervenire Pure sta cosa ragazzi È una cosa importante Cioè quante volte noi durante le interviste Vedevamo ADL intromettersi nella discussione E cominciare a dire cose che magari erano anche un po' fastidiose Nella conferenza di ieri dell'Aurendis Zitto Una sola volta è intervenuto E poi è intervenuto per la chiusura Poi basta È stato al suo posto È stato al suo posto E quando è intervenuto su Di Lorenzo Ha detto che è un giocatore uomo straordinario Posso capire che si sia sfasteriato dopo le ultime partite Probabilmente si è sentito abbandonato Ecco qui Sta rispondendo appunto A quella cosa che si dice Cioè che Di Lorenzo come capitano si è sentito abbandonato Gli ho spiegato che non era possibile abbandonare uno come lui Ecco qui Quindi qui ragazzi Sia Conte che dell'Aurendis Hanno pubblicamente messo spalle al muro di Lorenzo Perché gli hanno detto Sei tu che ti sei sentito abbandonato Ma noi non ti abbiamo mai abbandonato Poi ragazzi la verità Non la sapremo mai Però pubblicamente Sia Conte che dell'Aurendis Hanno confermato che Di Lorenzo è un giocatore fondamentale E che è considerato da entrambi Un giocatore E un uomo straordinario Quindi Adesso la palla Passa a Di Lorenzo Al suo procuratore E io penso che dopo queste dichiarazioni Di Lorenzo dirà C'è stato un misunderstanding Tutto a posto Quanto ci scommettiamo Riguardo Quara Dice Non ci sono problemi Gli faremo una proposta di rinnovo Ci ha confermato qual è il problema per Quara È un aumento di contratto La cosa bella sapete qual è Foloruncio adesso ha rinnovato il contratto Fino al 2029 Prenderà lo stesso ingaggio di Quara Non vado oltre Quindi Praticamente De Lorenzo ha detto Che gli faremo il rinnovo E poi C'è stata una bella frecciatina Al pari San Germain Perché dice C'è anche chi Contra Legend Fa contratti Offerte a giocatori Senza autorizzazione Dei club Non mi meraviglio più A 75 anni Di chi è corretto O scorretto Quindi praticamente Dissing Ad anche la Ify E secondo me ragazzi Questa cosa di Quara Ha un po' incrinato I rapporti tra Il Napoli E il Paris Saint Germain Questa è un'idea Che mi è venuta in mente Si chiede poi Di Ossiman E poi ovviamente Su Ossiman Conti dice Che è una situazione Totalmente diversa Perché c'erano accordi Prestabiliti Col club E quindi lui Qui ha detto Assisto Ma non posso entrare In alcun discorso Quindi ha detto cose Che sapevamo Su Ossiman Se arriva l'offerta Se ne va Riguardo la porta Meretta e Caprile Ha praticamente confermato Quello che La maggioranza Della tifoseria Non pensava Di sentire Cioè Meretta è il nostro portiere Gode della massima fiducia E stima Quindi ha confermato Meretta come portiere Detitolare al prossimo anno Riguardo Caprile Ora è ancora con noi Questa frase Mi fa pensare A un ipotetico prestito Quindi dice Ora è ancora con noi Domani magari Sarà da qualche altra parte In prestito Per crescere Quindi qua Diciamo Conte secondo Mi ha confermato Meretta primo Però Allo stesso tempo Ha detto Caprile forse Va in prestito Per giocare e crescere Poi Gli chiedono dei precedenti Con Juve Chelsea e Inter Quindi dice Arrivi alla Juve Che arrivava Da due settimi posti E lo porti a vincere Il primo anno E poi altri due scudetti Arrivi al Chelsea Che ha finito decimo E lo porti a vincere E poi arrivi all'Inter E in due anni vince Quindi si parla Di questo effetto Elettroshock E dice Conte Che l'unica Diciamo avventura Simile a quella Del Napoli È il Chelsea Che due anni prima Aveva vinto lo scudetto E poi è finita decima Fuori dall'Europa Fu qualcosa di incredibile In Premier League Sapete che ci sono Superpotenze Quindi quasi a voler dire È stato È stato un qualcosa Di ripetibile Quasi un miracolo sportivo Aver vinto il primo anno Quello che non posso Promettere la vittoria Bravo Non darci false illusioni Ecco mettiamola così Ma prometto di provarci Testa bassa e pedalare Parlare poco Tanti fatti E poche chiacchiere E qui Io non aggiungo nient'altro Napoli è la sfida Più affascinante Della sua carriera Dice Conte Arriva nel momento giusto Più di qualche persona Mi ha detto Ma non hai paura Ad allenare il Napoli E gli ho detto Paura di che? È un piacere Conoscendo le difficoltà Di una sfida Ecco ragazzi Allora secondo me Ha scelto Napoli Anche perché Secondo me Lui la vede Come una sfida personale Cioè lui comunque Ha allenato la Juve Il Chelsea L'Inter Club Che comunque Nei rispettivi paesi Sono attrezzati Per competere Per vincere il campionato Il Napoli È un livello sotto Rispetto alla Juve e l'Inter Per tutto quello che conosciamo E già sappiamo E quindi secondo me Lui ha scelto anche Napoli Per dimostrare Che Lui può vincere Anche in club Non di prima fascia Che non sono attrezzati Per vincere E per Essere la favorita Tutti gli anni Quindi per me Napoli è la scelta Anche come sfida personale Poi ovviamente Non è detto che ci riesca Però L'intenzione secondo me È quella lì A che punto è la squadra? Quindi qua torniamo sul mercato Ci sarà da fare tanto Oppure no Non bisogna farsi prendere dal panico E fare le giuste considerazioni E qui Secondo me Si sta riferendo al fatto che Eeeh Sim decimi Tutti via Tutti scarsi No Non è vero Bisogna fare ragionamenti E giuste considerazioni Perché la squadra È arrivata decima Ma non è una squadra Da decimo posto Come rosa Avremo tanti confermati Cercheremo di fare cose mirate Che possono rinforzarci Quindi Si parlava qualche mese fa Di rivoluzione E invece Sarà un mercato Diciamo Per puntella alla rosa Io so che il mio più grande pregio È migliorare il calciatore Ecco questa frase Rappresenta proprio Quello che De Laurentiis voleva Cioè De Laurentiis ha pensato Non alla rivoluzione Ma ha pensato A un allenatore Che fosse in grado Di Rigenerare Questi calciatori Quando Conte dice Il mio più grande pregio È migliorare il calciatore Penso ad Angissà Penso ai vari Raspadori Ai vari Listrom Ai vari Nathan Cioè In questa frase Io ci rivedo La filosofia societaria Del Napoli Cioè Migliorare il calciatore Prendere un giocatore Sconosciuto Con un potenziale importante È migliorarlo Dopo gli europei Ci sarà il mercato aperto Fini ad agosto Rispettando sempre I nostri parametri Come era prevedibile Non è che adesso Arriva Conte E prendiamo i top player Che costano 10 milioni Di ingaggio l'anno No Si rispettano sempre Perché ragazzi La filosofia societaria È sopra ogni cosa Anche l'allenatore Riguardo Lukaku Gli hanno fatto una domanda E lui dice Ragazzo forte E calciatore eccellente Come Osiman Speri sempre di averli Dalla tua parte E mai dall'altra Ecco Questa frase Mi fa capire Che comunque A Conte Non dispiacerebbe Avere di nuovo Lukaku Ci sarà tanto da fare Sul reparto difensivo Quindi si parla Della difesa E qui Conte Dà una bella risposta Secondo me Innanzitutto Porta dei dati L'anno scorso Il Napoli Decimo Con 48 gol presi La cosa sconcertante Però è che 27 gol Sono stati presi In casa Bisogna trovare Equilibrio Troppo offensivi O troppo difensivi Non porta Da nessuna parte Serve riequilibrare E fare Le impressioni E capire La fase Difensiva E il lavoro Di tutti Ecco Qui ragazzi Praticamente Cosa ha detto Conte Che noi abbiamo preso Tanti gol Non per colpa Del singolo difensore Quindi O di Guangea Sotto Di Rachmani Si è preso gol Perché la fase Difensiva È stata Inefficace E per fase Difensiva Che si intende Tutta la squadra Cioè la fase Difensiva La fanno tutti I giocatori E abbiamo visto Anche nelle analisi Delle varie partite Dell'anno scorso Ci sono stati Dei gol Che sono arrivati Perché magari Non c'era il centrocampista Che faceva filtro C'era quella volta Che magari Anchissà Non faceva la corsa In più Per aiutare i compagni E quindi Ha provocato Quell'innesco Per il gol C'era magari Quella volta Dove l'esterno D'attacco Non appressava Il terzino Che poi ha fatto Il cross Che ha portato Il gol Cioè È la fase Difensiva Che non ha funzionato Wangesu Sakai Perché è arrivato Perché Simeone Non aveva pressato Dossena Che aveva fatto Il lancio lungo Fase difensiva Faremo analisi E dovremo portare Dei correttivi Va benissimo Domandina Poi su Buongiorno Ci sono tanti nomi Cercheremo di trovare Il migliore Rispettando sempre Determinati parametri Non ha né Confermato Smentito Ieri sera però Di marzio Ci ha praticamente Detto che Il Napoli Per Buongiorno È arrivato a 30 milioni Più 5 di bonus Mentre il Torino Ne vuole 35 secchi Quindi diciamo Che la distanza È minima E io penso Che alla fine Ragazzi Se la distanza Sono solo 5 milioni Penso che Si farà alla fine È un po' godicchio Perché Cairo sperava Che Buongiorno Facesse qualche presenza In europeo Così poteva chiedere di più Gli è andata in quel posto Eh caro Cairo Dovanda poi Sull'identità Che identità avrà In Napoli Qui il giornalista Porta un'altra massima In Napoletà Ovvero Scurdamoccio Passato E Conte dice Il passato è passato Hai ragione Però penso che Nei momenti di difficoltà Bisognerà vedere Cosa è successo Due e un anno fa Scurdamoccio Zero integralismi Si gioca in base Sperando che Sperando che alla fine Rimanga E qui Conte Categorico Resta Punto Cioè proprio Resta E ha detto poi Una cosa Che a me piacerebbe Tantissimo Sento tante cose In giro E vorrei Che in futuro Non ci fosse Un ritornello Ah Bella Ragazzi Io a un certo punto Su Twitter Ho scritto Conte Ma ogni tanto La sbaglio Una dichiarazione E' stato E' stato Perfetto Veramente Non ha sbagliato Una video Anzi una cosa L'ha sbagliata Secondo me Però La vedremo dopo Riguardo Quara Dice E' forte nell'uno Contro uno E' fantasista Dobbiamo esaltare Le sue caratteristiche Come quelle di Politano Ngong e Lindstrom Ecco Il fatto che Citi Lindstrom Ma è importante Perché si parlava Di un prestito Magari Andrà il prestito Lo stesso Però Vabbè Lo valuterà Durante il ritiro Penso che Se Kvara Lo tieni Sistematicamente Dentro il campo Un po' Perde Mezza Forse Indicazione Sul fatto Che giocherà Con gli esterni L'idea Tattica E' molto chiara Dovremo solo Decidere Quando difendere Con 4 O 5 Difensori Vabbè Questo penso Sia una cosa Che varia A seconda Degli avversari Domanda Poi Su Raspodoro E Folo Ruscio Però qua diciamo Che Conte Giustamente Ha detto Che deve Allenarli Deve Vederli sul campo Perché una cosa Guarda lì in tv Una cosa Allenarli Quindi non ha potuto Dare indicazioni Importanti Un segreto Del suo lavoro Per dare la scossa E qui Conte dice La leadership Te la conquisti Con l'esempio La prima cosa Che farò E' dare l'esempio Dimostrare Di essere pronto A dare tutto E loro dovranno Fare lo stesso Con me All'inizio È sempre tutto Rosa e fiori Ma durante il percorso Ci sono difficoltà Fatiche E tanti poi Li perdi Per strada Mentalità E arrivare Alla fine Del percorso Non dico nient'altro Cosa fare Nell'immediato Essere equilibrati Il Napoli Si è trovato A gestire la vittoria E ricordiamo Ragazzi Si è trovato A gestire la vittoria Per la prima volta Perché in 20 anni Di gestione Della Rendes Due anni fa E' stata la prima volta Che si è vinto Il campionato Gestire la vittoria È diversa Dal gestire Un secondo Un terzo Un quarto Un quinto O un piazzamento Europeo In generale E' verissimo E lo abbiamo visto L'anno scorso Quando vinci Le dinamiche cambiano Ci sono oneri E onori E la cosa bella ragazzi È che queste parole Le sta dicendo Uno che in carriera Ha vinto Quindi sa Di cosa sta parlando Dovremmo far tesoro Dell'anno scorso Per cercare Di capire Che la vittoria Dobbiamo ricercarla Ed essere più bravi A gestirla Ecco Diciamo che l'anno scorso Deve essere un monito Deve essere appunto L'esempio Per non rifare Gli stessi errori Un giorno Quando e se Si vincerà Due anni fa Tutti hanno vinto L'anno scorso Tutti hanno perso Si vince E si perde Tutti insieme Sono sicuro Che tutte le componenti Avranno fatto tesoro Di questo E me lo auguro Anche io Che messaggio Mandiamo agli avversari E qui Conte Un'altra Risposta giustissima Non è il momento Di parlare Potremmo dire Tante fesserie Che ci tornerebbero Tutte indietro Bavo Bravissimo Oggi è il momento Del fare Non voglio essere Solo una statuina Del presepe Voglio far parte Della storia Nel Napoli Quest'ultima frase O freedom goal Come si dice Dalle nostre parti Cosa prometto Da DL Prometto Di Digli sempre Cosa penso Non cambierò Il mio modo Di essere Io se devo Dire qualcosa Lo sa Che glielo dirò Direttamente Quindi prometto Di essere Sempre schietto E sincero E poi La domanda finale Accetterà Di perdere Giocatori Demotivati Che però Conte Vorrebbe tenere Cioè Vuoi tenere Un calciatore Però questo calciatore È demotivato E vuole andare via Lo terrai comunque E dice Conte Qua una cosa Che è un sogno Per quanto mi riguarda E temo Continuerà a restare Un sogno Perché cosa ha detto Quello che mi auguro Che possa cambiare In questi tre O si spera Più anni È che Napoli Venga visto Come una meta E non un passaggio Questa ragazza È una frase bellissima Però io penso Che questa Rimarrà un sogno Perché Napoli Come meta Non credo Che riusciremo A vederlo Secondo me Non abbiamo Non abbiamo I mezzi Per essere Una meta Io ovviamente Quando dico Che Napoli È una Tappa di passaggio In ogni meta Lo dico perché Secondo me È così Cioè Sono realista Ma non è che Io sono contento Quando dico Questa cosa Cioè lo dico Perché la realtà Dei fatti È questa qui Ma è ovvio Che io Mi auguro Che Napoli Possa diventare Una meta Per i campioni Ma penso Che al momento Questo non si possa Fare E non credo Che succederà Nei prossimi Tre anni Non credo Che questa cosa Cambierà Poi se succede Ragazzi Io sarò felicissimo Di questa cosa Un calciatore Viene al Napoli Perché sa Di lottare Per qualcosa Di importante Ogni anno Se a uno Se a uno Viene il mal di pancia E non è contento Sta con me Ogni giorno Ti racconto Due cose E mi faccio aiutare Fatti chiari E amicizia lunga Quindi praticamente Ha detto Se sei scontento Te ne sta in panchina E mi aiuta A fare l'allenatore Diciamo Questa è l'unica cosa Su cui non sono d'accordo Perché Tenere i calciatori Contro voglia È sempre un qualcosa Che ti Che ti si ritorce contro Puoi anche rischiare Delle cause legali Perché ragazzi Tu non puoi Obbligare un calciatore A restare Se non vuole andare via E poi Ci perdi dei soldi Ragazzi L'ho detto anche L'altra volta Con Di Lorenzo Se tu Tieni in tribuna Di Lorenzo Per quattro anni Innanzitutto Butti i soldi Nello stipendio Perché se tu Tu paghi un calciatore Per stare in tribuna Stai buttando dei soldi E poi Perdi dei soldi Perché il giocatore Si svaluta E questa cosa Voi pensate Che possa succedere Per esempio Con Kvara Cioè Kvara Che vale 100 E passa milioni De Lorenzo Rinuncia 100 milioni Più l'ingaggio Perché deve stare qui E perché Conte L'ha detto Su questa cosa Io dico E l'unica cosa Che dico no Non sono d'accordo E non penso che accadrà Qui secondo me Conte ha fatto un po' La voce per dire Qua non ti conviene Metterti contro di me Però penso che alla fine Cioè Se uno vuole andare via Lo cedi e basta E qui ragazzi Finisce la conferenza La presentazione Di Conte E c'è la chiusura Finale Con De Laurentiis Che risponde alla domanda Di prima Cioè cosa promette Il presidente a Conte E qui De Laurentiis Ecco De Laurentiis È intervenuto Solo una volta Più la chiusura Però quando ha parlato È stato bravo Vabbè A parte la frecciatina Al Paris Saint Germain Ha detto cose Chiare E non Diciamo Campa di l'aria Ho le idee Molto chiare Conte ha acquisito Lo status di manager Si è messo a parlare Del Manchester United Di Ferguson Ecco perché Si permette di dire Che chi sta con lui Sta con lui Non mi permetto Di dire A E io qua dico A A Safa Finalmente Quando ho sentito Sta frase Sono stato contentissimo Conte decide Conte comanda E io non mi permetto Di dire Niente Qua secondo me È proprio La conferma Che siamo Che è iniziata La famosa New Era Con un anno di ritardo Però è iniziata C'è proprio La svolta La rivoluzione Perché in Napoli Sappiamo benissimo Fino a mo La struttura societale È sempre stata Un uomo solo al comando Decide sempre De Laurentiis Fa tutto lui Invece con l'arrivo di Conte Decide Conte Coadiuvato Da Manna Da Oreali E da tutti quanti E anche da De Laurentiis Però la scelta finale La prende Conte Questa ragazzi È una rivoluzione E non è un caso Che secondo me Lui abbia fatto Questa cosa Proprio con Conte Cioè Lui comunque Ha preso un allenatore Che ha fatto esperienza Da manager In Inghilterra Quindi secondo me Lui ha Deciso di fare Questa svolta Perché comunque Ha puntato Sull'allenatore Che secondo me Gli dà molta sicurezza Gli dà molte garanzie E lo fa stare tranquillo Cioè Io Sapete che vi dico Ma la dico grossa Io sono sicuro Sono convinto In una cosa Secondo me De Laurentiis Ha trovato in Conte Il suo Ferguson Cioè Quell'allenatore Manager Che decide E che fa E che resta Al timone di una squadra Per tanti anni Ma non è che Conte resta a Napoli Per 15 anni Però già che ne resta 4 o 5 È una svolta Rispetto al passato Perché la maggior parte Degli allenatori Tolto Mazzari Che è stato 4 anni Tutti sono rimasti O 2 o 3 anni Quindi già che tu resti qua Per 4 o 5 anni È una cosa importante Io in Conte Ci rivedo ragazzi Un nuovo Benitez Cioè Un allenatore Che arriva E stravolge Il Napoli Perché Quando arrivò Benitez Diciamo Lui ha portato Il Napoli Nella dimensione Dell'internazionalità E della dimensione europea Conte sta portando La figura del manager Quindi sta portando Una rivoluzione Nell'assetto societario Qua ragazzi Secondo me Siamo di fronte A una nuova era Ecco Questa volta Lo penso seriamente Perché Nell'Arendis Ha finalmente deciso Di Farsi un po' da parte E di lasciar lavorare Chi sa Chi sa il fatto suo Io Onestamente Ragazzi Da questa conferenza stampa Ne esco Soddisfattissimo E ne esco Molto Molto Speranzoso Nel futuro Ecco Questa conferenza stampa Mi ha dato molto Speranza nel futuro Io dall'esterno Sto vedendo Che ci stanno provando Io Voglio chiudere però Il video Diciamo Sottolineando Quello che si è detto prima Cioè Restiamo coi piedi per terra So benissimo Che è difficile Farlo adesso Perché siamo tutti Belli gasati Per queste parole di Conte Però restiamo Che vi divertire ragazzi Perché come ho detto Come dico tante volte Ed è questo un mantra Il calcio non è Matematica Tu puoi anche avere Tutte le buone intenzioni Tutta la volontà del mondo Ma alla fine Non è detto che vincerai Il Napoli Il Napoli sta dimostrando Di volerci provare E sta dimostrando Di voler fare Un passo in avanti Per quanto riguarda L'evoluzione Sta dimostrando Di volersi migliorare Ma tutto questo Non è garanzia di vittoria Quest'anno L'obiettivo È tornare Tra le prime quattro Poi se si lotta E si vince Per lo scudetto Tutto molto più bello Ve lo ripeto Non è una scienza esatta È imprevedibile Tu puoi lottare Per il quarto E magari ti trovi a giugno Che abbiamo vinto Il quarto scudetto Nessuno può saperlo Però di base Dobbiamo stare Molto calmi E non farci Sopraffare Dai voli Pindarici Ecco questo È il mio Parere Quindi ragazzi Per me Siamo ufficialmente Nella nuova era Quindi fatemi sapere Un po' la vostra Nei commenti E ditemi un po' la vostra Lasciate un bel like Ragazzi per il video Se vi è piaciuto E mi raccomando Iscrivetevi Se non l'avete ancora fatto Attivate poi la campanella Perché così Rimarrete sempre aggiornati Su un cittadino I miei nuovi video Detto questo ragazzi Noi ci vediamo Alla prossima E sempre Forza Napoli Buon lavoro E buona fortuna Mister E speriamo veramente In questi tre anni Di vivere un percorso Che ci regalerà Tante Ma tante soddisfazioni E buona fortuna Ciao a tutti Ciao a tutti Ciao a tutti